E non ci illudiamo, quello che è accaduto negli Stati Uniti ancora prima dei fatti di Washington accadrà anche in Italia, accadrà in Spagna, accadrà in Europa, accadrà quando i nostri avversari non potendo argomentare per rispondere alle nostre tesi avranno solo la possibilità di silenziarci. Siccome non so cosa dire, devi stare zitto. Per cui siamo passati da quella sinistra che ci diceva di credere nel motto che fu attribuito a Voltaire, no, non condivido le tue idee ma sono pronto a morire perché tu possa esprimerle, a una sinistra che oggi ha mutuato quel motto e oggi dice non condivido le tue idee e farò del mio meglio perché tu non possa esprimerlo, compreso se necessario farti scomparire. Noi dobbiamo combattere. E chiudo. Ho visto che il governo polacco ha fatto una legge la proposta di legge, il governo polacco, i nostri amici di ECR hanno fatto una proposta di legge per cui intendono sanzionare chiunque tra questi social network si permetta di censurare o oscurare alcuni contenuti che non violano la legge polacca. Mi pare una buona idea. Penso che sarebbe interessante per tutti i conservatori europei ragionare di norme di questo tipo hanno anche istituito un tribunale online per valutare la congruità di questo tipo per difendere la libertà che è un fondamento della nostra civiltà a tutti i livelli compresa ovviamente e soprattutto quella di espressione.